Il provvedimento ufficiale di riapertura del tratto di via Ludovico Corrao sul Monte Bonifato dove il forte vento nella mattinata dello scorso 10 febbraio aveva fatto piombare sulla carreggiata parti di un albero già pericolante. Prima che il comune di Alcamo comunicasse questo nuovo provvedimento di riapertura della strada Alcamondo Blog ha effettuato questa intervista. Buongiorno dalla via Ludovico Corrao, la strada che porta verso la Funtanazza qui sul Monte Bonifato, la montagna di Alcamo. Siamo qui in compagnia di Giuseppe Senia, sindacalista dell'UGL che già in precedenti occasioni qui su Alcamondo Blog ha evidenziato una serie di gravi problematiche che interessano il Monte Bonifato, la riserva naturale Bosco d'Alcamo e non solo la riserva naturale. In particolare per quanto riguarda questa strada che fino a poche settimane fa era denominata via Permonte Bonifato che è stata intitolata a Ludovico Corrao, noto politico alcamese. Adesso vediamo intanto che è stata posizionata questa transenna con tanto di cartelli segnaletici per interdire il transito tranne che per quanto riguarda mezzi delle forze dell'ordine, di emergenza, di soccorso e residenti. Ma questa comunque non è una novità di oggi perché già come pubblicato le scorse settimane a seguito della caduta di un albero avvenuta lo scorso 10 febbraio, e vi mostro più da vicino la zona, il tratto della strada su cui era crollato quest'albero, si notano in quel tratto anche parti di costone piuttosto pericolanti. Dunque a seguito di quell'evento si è reso necessario intanto emanare un'ordinanza da parte del comune di Alcamo, quindi ordinanza che vieta il transito su questo tratto di strada, e sappiamo tra l'altro che proprio questa mattina si è tenuto qui un sopralluogo da parte intanto della Polizia Municipale, della Protezione Civile, se non vado errato, è stato lo stesso comandante Ignazio Bacile a confermarmi che c'è stato effettivamente un sopralluogo poche ore fa e che si sta adesso valutando il da farsi o comunque ci sarà comunicato ufficialmente il provvedimento che è stato già preso, che comunque si sta prendendo. Ma andiamo al dunque, nel senso che vogliamo capire mediante anche Giuseppe Segna, quali sono le azioni che sul piano sindacale si stanno intraprendendo in queste ore. Alla luce intanto del fatto che qui è stato appena effettuato un sopralluogo, e questa è certamente una relativamente buona notizia, dico relativamente perché qui occorre, oltre a fare i sopralluoghi, effettivamente intervenire con urgenza per la messa in sicurezza. Che cosa ci può dire Giuseppe Segna? Intanto io ho dovuto fare questa doverosa premessa per rendere più chiara l'idea a chi ci ascolta. Grazie, ascoltiamo Giuseppe Segna. Buongiorno. Buongiorno a voi di Alcamo Blog. Io ringrazio sempre il dottor Massimo Provenza di darmi spazio per poter dire la mia. Intanto prendo atto anche da ieri, da alcune testate giornalistiche, che qualcosa si sta muovendo in merito ai sopralluoghi che ci ha appena citato il dottore Provenza. La questione rimane sempre la stessa, una mediocre azione per rendere vivibile la montagna in questi anni della Icchese Provincia. I nostri, come sindacato che possiamo fare, abbiamo invitato più volte nei tavoli per parlare, per poter risolvere il problema, per iniziare a risolvere il problema. Ci ritroviamo con una barriera davanti dove c'è messo eccetto forse dall'ordine di emergenza di soccorso ai residenti. Io vorrei capire, l'ho letto in alcune testate giornalistiche ieri, che sono stati i vigili urbani di Alcamo a chiudere questa strada, ma non vedo nessun timbro, nessuna sigla, nessuna firma in un cartello che io stesso potrei mettere. Comunque, non voglio fare polemica. Probabilmente, scusa Giuseppe, chi di dovere si sta adoperando, attrezzando per migliorare questo servizio segnaletico in base alle regole che devono essere eseguite al riguardo, almeno voglio pensare questo. Comunque, è opportuno segnalare anche questo perché effettivamente è giusto che chi passa da qui sia messo a corrente, che è ufficiale, che qui bisogna stare molto attenti e non si può transitare a meno che non sia autorizzati. Ecco, prego. Niente, io lasciando stare questa piccola chicca che ho detto dal cartello, è semplice, non so più cosa fare. Ho indotto più di una volta il tavolo, ho invitato più di una volta a parlare le varie figure, i vari attori che sono responsabili di questa montagna nel cercare una soluzione che per me è semplice, è ritornare alle origini, ritornare a quell'azienda dove tanti anni fa era stata capace di fare questa RNO, questo monte, dargli un aspetto, una dignità, quella che oggi non c'è più, è evitare di chiudere le strade perché un accesso che viene chiuso è la cosa più semplice che si può fare per non fare lavori. Noi andiamo a segnalare che c'è una problematica, che c'è da mettere in sicurezza la montagna, che c'è da fare determinate tipologie di lavoro per renderla migliore e vivibile al popolo alcamese, cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo semplicemente un cartellone dove ci chiudono la strada e poi incomincia con i vari sopralluoghi, incomincia con le varie cose. La realtà è un'altra cosa, bisogna sedersi al tavolo, cari miei amici politici, e risolvete la questione dalla radice, la questione è semplice da risolvere, basta trovare un punto d'incontro e ridare la gestione a chi ha le facoltà di poterla gestire. Quindi il dirigente che manca da 15 anni, non ha un dirigente questa RNO, quindi ridare un dirigente che ha più di 15 anni che manca, fare dei progetti che la riportano a essere un RNO e metterla in sicurezza in tutte le sue parti, sia come viabilità, sia anche come bosco, sia anche come riattrezzata, sia anche il parco avventura che abbiamo sempre montato lassù, che è lasciato così. Chiudere una strada, chiudere la montagna, secondo me non è la cosa più giusta. La cosa più giusta è renderla vivibile, è renderla in sicurezza. Quello che non viene fatto attualmente. Sono punti tematici su cui si è incentrata l'attenzione di Giuseppe Senia già in precedenti interviste nelle scorse settimane e non dobbiamo dimenticare, tra l'altro che Monte Bonifato è interessato da gravi fenomeni di rischio di dissisto idrogeologico, come già testimoniato dalla caduta di un masso nel mese di novembre scorso che rotolando per svariate centinaia di metri è andato a sfondare il tetto di una casa e miracolosamente i residenti sono rimasti illesi. Dunque anche questo è argomento molto importante da trattare, su cui comunque mi sembra di poter dire che il comune di Alcamo non è rimasto con le mani in mano. sono stati presi dei provvedimenti anche chiedendo aiuto alla Regione per effettuare, come ci conferma lo stesso comandante Bacile, effettuare proprio dei sopralluoghi e delle attività di verifica per quel che è possibile di ciò che deve essere messo in sicurezza intanto per quanto riguarda il dissisto idrogeologico e prevenire che cadano altri massi o che si verifichino altre frane. Dunque anche su questo direi che occorre effettivamente spendere qualche parola. Signor Massimo Provenza, dottore, mi scusi. Tutte queste interviste le abbiamo fatte anche nel passato portano l'attenzione su questo monte il dissisto idrogeologico. Se lei ha un incendio quest'anno fra tre anni avrà i problemi del dissisto idrogeologico perché le radici ci vogliono circa tre anni per diminuire la loro massa. E' chiarissimo che gli incendi sono tra le cause principali se non la principale causa di questi fenomeni e più volte è stato evidenziato. Lo sappiamo bene. Prendendo fuoco l'albero poi le radici che hanno una massa nel tempo, nell'arco di tre anni ridurranno quella massa automaticamente si stacca il costone può succedere a qualsiasi. Ma bisogna aspettare il morto bisogna aspettare il masso che cade su un tetto bisogna aspettare che questa montagna ce la troviamo ad Alcamo io non lo so cosa bisogna aspettare per segnalare che bisogna unirsi in un corpo e un'anima tutti i politici e trovare la soluzione che sia una buona gestione per Monte Bonifato con un'azienda che ha le capacità e ha gli uomini ha le attrezzature e ha tutto quello che serve per renderla nuovamente vivibile e all'accesso agli alcamesi che da più di 30 anni si ritrovano con una montagna trascurata e abbandonata a se stessa non capisco il perché e il motivo per fare tutto ciò io non lo so deve cadere il masso per capire che bisogna mettere in sicurezza questa montagna si devono chiudere le strade per non poter accedere nemmeno al santuario che abbiamo dalla Madonna dell'Alto che oggi è stato valorizzato da fedeli che io conosco tra cui anche colleghi miei di forestale che hanno dato la vita anche noi come forestale andiamo là la andiamo a pulire nel periodo che siamo qui in montagna che ci fanno fare solo i viali parafuoco quindi io direi fare un'azione seria invito nuovamente tutti gli attori principali a riunirsi a un tavolo io come sempre per segnalazione sempre perché mi piace il mio territorio perché voglio vivere il territorio visto che ho questa piccola carrica in UGL ho parlato ieri con il mio segretario dell'UTL di Trapani Mario Parrinello dove ho pregato di dare un invito alle altre forze sindacali della provincia e cercare tutti univocamente di fare un incontro con il prefetto per vedere di risolvere alla radice questa questione basta lo scarrica Barile basta è un colpo al comune un colpo all'ecchese provincia un'altra volta alla forestale un'altra volta non si sa chi sia il problema è Monte Bonifato noi lo rivogliamo come Alcamese non vi parla il segretario vi parla Peppe Senia l'Alcamese il forestale io rivoglio la mia montagna io da Alcamese non tanto dalle cariche che mi ritrovo in UGL dico e faccio un appello ai nostri amministratori a tutti gli Alcamesi ridateci la montagna Monte Bonifato ha bisogno di voi vi dovete riunire se dovete dare quella gara d'appalto per quel progetto di 400 che poi si è ridotto a 380 mila euro fatelo a chi ci aspettate cosa si aspetta che ad agosto scade il progetto cosa si sta aspettando a dare lavoro e mettere in sicurezza questo monte che cosa si aspetta questa è la domanda che io pongo a tutti non so chi mi risponderà forse nessuno forse come al solito vabbè il pazzo ha parlato ecco però che nel primo pomeriggio più precisamente intorno alle 12.30 giunge un comunicato da parte del comandante della polizia municipale di Alcamo nonché dirigente della protezione civile comunale Ignazio Bacile che vi leggo riporta testualmente infatti questo comunicato che in seguito al sopralluogo effettuato oggi 29 febbraio congiuntamente dalla polizia locale dalla protezione civile di Alcamo e dal libero consorzio comunale di Trapene è stato verificato lo stato di sicurezza del tratto stradale interessato dal crollo di alcuni rami nella giornata del 10 febbraio scorso a causa delle eccezionali condizioni meteo caratterizzate da forte vento è stata pertanto decisa la riapertura alla circolazione del tratto di strada comunale che era stato interdetto con ordinanza del 15 febbraio scorso quindi viene riaperto questo tratto di strada di cui abbiamo appena parlato con Giuseppe Segna e quindi prendiamo atto di questa notizia ed è in corso prosegue il comunicato è in corso di predisposizione il relativo provvedimento rimarrà analogamente aperta alla circolazione anche la strada di competenza provinciale quindi mi sembra di poter dire che si tratta della strada che dalla fontanazza conduce verso la sommità del monte Bonifato stesso nel contempo conclude il comunicato la protezione civile di Alcamo sta predisponendo quanto occorrente per la rimozione controllata di un blocco roccioso e ulteriori verifiche circa la presenza di alberi potenzialmente pericolosi quindi queste dedicazioni in questo comunicato che vi ho letto da parte del dirigente responsabile Ignazio Bacile quindi vorrei mi sembra doveroso concludere con Giuseppe Segni alla luce quindi di quanto abbiamo appena appreso a conclusione di questo servizio video che effettivamente ci aggiorna sull'evoluzione un po' di tutta questa situazione anche sul piano tecnico burocratico la parola a Giuseppe Segni io ringrazio il comandante ringrazio le forze dell'ordine intervenute ringrazio la protezione civile che metterà nuovamente in sesto la strada ed essere sicura per tutti noi che la percorriamo anche per raggiungere la vetta che è dove c'è il nostro santuario della Madonna dell'Alto quindi ringrazio tutte le forze che si sono messe in atto per questa situazione ma rimane sempre la stessa questione ci mettiamo un tavolo e per una volta e per sempre rendiamo giustizia a Monte Bonifato all'N.O. Bosco d'Alcamo io questo rimango sempre nell'invito di invitare tutti nel ragionare tutti nello stesso senso per arrivare all'obiettivo rendere Monte Bonifato come era nel 1990 e allora ringraziamo Giuseppe Segna doverose quindi le precisazioni e gli aggiornamenti che sono contenuti nel comunicato che vi ho appena letto e soprattutto direi che occorre comunque sempre focalizzare l'attenzione sulla sostanza della questione che rimane apertissima che è quella appunto della salvaguardia di Monte Bonifato e di chi insomma si trova non soltanto a frequentare questi posti ma anche di chi abita qui sul Monte Bonifato grazie a tutti